Più di mille no contro la centrale. Ieri sera a Medole buona parte della cittadinanza si è ritrovata durante un concerto per manifestare la sua paura contro l'impianto a biomasse in costruzione a Sevole. Servizio di Arianna Mare. Non ce ne vogliono i musicisti della band Idin Dal Nas, bel ritmo e test esilaranti. A trascinare al parco di Medole più di mille, c'è che azzardo a 1500 persone, non è stata solamente la loro arte, bensì la paura di una centrale a biomasse, quella che la Vignoni Energy sta già iniziando a costruire a Selvole, frazione di Castel Goffredo. La serata è stata organizzata dal Comitato Spontaneo Castellano che contro l'impianto e contro il comune che l'ha autorizzato ha già raccolto 4000 firme. Con iniziative come quella di ieri, i suoi membri vogliono soprattutto informare. Molta gente spiegano non si rende conto di che cosa significhi avere una centrale in un centro urbano a 500 metri da una scuola. Molte persone purtroppo sentono ancora che dicono che è un problema di una frazione o di un piccolo borgo e basta. No, riguarda tutto il paese e anche i paesi limitrofi perché un cammino di 20 metri ha una dispersione di un raggio di 4 chilometri quadrati. Stiamo pensando a diverse iniziative e anche a diversificare le nostre iniziative in più direzioni, sempre per raccogliere maggiore adesione e far arrivare il nostro messaggio più lontano. Questa centrale, aggiunge Hermes Gobbi, ci sta dividendo. Tutta la gente di Castel Cofredo purtroppo è divisa, è divisa da questa centrale, c'è chi è pro e chi è contro. Io direi a questo punto di dire ai nostri concittadini guardatevi bene da quello che fate, aiutateci. Tra i 1500 anche Roberto Lamagni, consigliere comunale della Lega Padana Lombarda, che non ha risparmiato una frecciata al sindaco. Se vedessi tutti questi miei concittadini qui in esilio, ha detto, domani mattina mi dimetterai subito.